Francesco Pugliese, amministratore delegato e direttore generale di Conad a Marca, Bologna 2018. Allora, glielo ho fatto alla battuta anche fuori microfono, il posto più naturale per voi dov'essere. Che cosa rappresenta per Conad Marca e che cosa portate in questa edizione? Allora, innanzitutto buongiorno. È sicuramente un posto nel quale ci troviamo a nostro agio, per due ragioni di motivo. Abbiamo una quota sulle nostre vendite di marca del distributore, quindi di marca Conad, piuttosto che di sapore di intorno o verso natura, che oramai è alla solida del 30%, quindi ai livelli del retailing a livello europeo. Sui 10 miliardi che fa la marca commerciale in Italia, noi ne facciamo alla vendita 3 miliardi e 2. Quindi non è solo il posto più naturale, è il posto nel quale ci troviamo meglio. Perché qui? Perché crediamo che la marca del distributore è sicuramente uno dei pilastri per il posizionamento e soprattutto la differenziazione fra retailer. Sempre più e sempre meglio sta diventando marca, ma marca con la M maiuscola, in termini di innovazione. Oggi c'è una presentazione di uno studio che ha fatto Ambrosetti, ITEA, estremamente rilevante, dove si vede che questo settore, non solo della marca commerciale, ma in generale l'industria del commercio moderno in Italia, è quello che meglio sta rispondendo alle difficoltà che ci sono. E soprattutto ha un impatto sull'intero settore economico italiano estremamente rilevante. solo che un po' per colpa nostra, un po' per colpa di chi non vuole guardare, recitiamo un ruolo che è troppo sottomesso, mentre invece dovremmo far sentire di più la nostra voce rispetto ai bisogni che abbiamo nel Paese. I numeri vi danno ragione? Come fate a intercettare quelle che sono le esigenze del consumatore? Guardi, qualche giorno fa in una nostra regione interna ho fatto una domanda alle persone e ho chiesto a tutti i componenti del nostro Consiglio d'amministrazione qual è il contrario di lento. Ovviamente tutti quelli che mi stanno ascoltando, e lei pure mi dirà veloce, questo valeva dieci anni fa, oggi il contrario di lento è morto. E quindi intercettare i bisogni del consumatore riesce a farlo oggi, molto meglio la distribuzione che l'industria, perché li vede, li tocca, li sente giorno per giorno e quindi velocemente cerca di dare risposte.